Dopo il debutto al Salone Internazionale del Libro di Torino, il sorprendente romanzo di Carlo Minervini, comette di Falco Editore, è pronto ad approdare nelle librerie italiane. Il volume è stato presentato al Teatro dell'Acquario di Cosenza. Condotto l'evento la giornalista Rosa Cardillo, sono intervenuti l'editore Michele Falco, il dirigente scolastico Rosita Paradiso e l'autore Carlo Minervini. È un libro che racconta la Calabria sotto una chiave un po' più ampia rispetto a quella che si è abituati a leggere, diciamo, all'interno della narrativa contemporanea. Mi spiego meglio, questo è un viaggio, il racconto di un viaggio che di borgo in borgo, di paese in paese, racconta le contraddizioni e la bellezza, soprattutto di una regione che io definisco proprio la regione che ha dato il nome all'Italia, ma non perché lo definisco io, perché è questo. Quindi cerco di raccontare una storia italiana e raccontare la Calabria come un pezzo fondativo dell'Italia. Un libro che finalmente parla della Calabria non come zona periferica italiana e mondiale, ma come centro della nostra nazione. L'autore, il nostro Carlo Minervini incita, esalta, compendia la nostra regione attraverso non soltanto la memoria e il ricordo, ma attraverso tutta una serie di suggestioni, di storie che esaltano non soltanto la nostra terra, ma anche i protagonisti che diventano parte principale di questa sua narrazione. Brevi estratti del volume sono stati recitati dall'attore Francesco Bossio.